Febbraio non è ancora finito, ma la primavera è già arrivata. Il caldo anomalo da qualche giorno riscalda Catania con temperature che oggi hanno toccato i 22 gradi. Una condizione atipica che i giorni scorsi ha portato con sé nebbia, umidità e zanzare. Delusi gli amanti degli sport invernali, che dovranno rassegnarsi di fronte a delle temperature decisamente troppo elevate per la stagione e all'Etna senza neve, almeno sulle piste. Clima ideale invece per chi ama escursioni e passeggiate nella natura. La situazione rimarrà stabile fino a venerdì, con venti deboli e alte percentuali di umidità. Il weekend sarà invece più fresco di qualche grado, preannunciando una settimana più rigida e nuvolosa.